Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per le regioni colpite dall'eccezionale ondata di maltempo dei mesi di ottobre e novembre 2019. Tra le regioni per le quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza è ricompreso l'Abruzzo con delibera 566 del 18-11-2019. Abruzzo colpito dalle mareggiate dei giorni 12 e 13 novembre, la struttura di protezione civile di concerto con il servizio regionale opere marittime e comuni colpiti, aveva allegato alla delibera di richiesta dello stato di emergenza un primo report dove veniva indicato in 112 milioni di euro, una prima stima dei danni indicando in 5 milioni il fabbisogno per le somme e urgenze. Una parte di questi soldi è già arrivata alla nostra regione. Il riconoscimento è già un risultato importante rispetto a qualche decisione improvida che era stata presa perché credo che i danni siano stati rilevanti. Chiaramente questo è solo un primissimo intervento minimale che ci dà la possibilità di continuare l'intervento rispetto anche a somme che noi abbiamo messo ma noi ci aspettiamo interventi molto più consistenti sia per interventi diretti per il ripascimento, per le scogliere e poi anche per rimborsare i privati per le attività che sono state fortemente danneggiate. Quindi parliamo di oltre 102 milioni di euro rispetto ad un primo stanziamento, ripeto, solo per le somme urgenze di un milione e 6. Anche altre regioni hanno avuto cifre più o meno simili alle nostre. Quindi veramente ci aspettiamo che ci sia un intervento immediato perché chiaramente non è che poi queste cifre possono arrivare a distanza di anni. La regione come altre regioni ha problematicità. Chiaramente non riusciamo con le nostre risorse ad intervenire. Facciamo quelli che sono gli interventi di somma urgenza che ci vengono richiesti dai privati e dagli altri enti ma noi continuiamo a insistere nei confronti del governo. Governo che a oggi ha solo rivisto una posizione che non ci era piaciuta. Speriamo che riveda anche presto i finanziamenti.